E' a due centimetri da me, schiude le labbra voluttuose e mentre sto per baciarla mi guarda e dice... Come ti chiami? Gogol Genguli. Fine preliminari di seduzione. Voglio che vieni a casa questo sabato. Mamma, questo weekend non posso. Mamma. E' pronto ad andare in vacanza con i genitori di qualcun altro? Tanti auguri! Ma non a venire a trovare i suoi e poi come fa una ragazza a chiamarsi Max? Chissà, forse è un ragazzo. Però ti devo avvertire, niente baci, niente mano nella mano. Avevo un'amica che è andata in India. È tornata secca come un chiodo. A quanti anni sei venuto in America? Io sono nato a New York, sono americano. Ci ho pensato, voglio cambiare il mio nome. Te lo immagini Gogol su un curriculum o su un biglietto da visita? Fa come vuoi. I tuoi non vogliono che sposi un'indiana dolce e carina. E a me cosa importa? Io voglio solo te. Volevo dirti una cosa. Riguarda il tuo nome. Era il 1974. Fu allora che è successo. Io ti ricordo quella notte. Mi ricordi tutto quello che c'è stato dopo. Ogni giorno da allora. È come un regalo. Grazie a tutti.